pensava di godersi una semplice cena con gianluca mobilia da cui ha avuto l'adorata figlia maria isabelle 7 anni invece rimane a bocca aperta cecilia capriotti va al ristorante col compagno per celebrare il suo compleanno ma scopre che non sarà una festa a due a sorpresa la showgirl trova tutte le amiche riunite per un super party che non si aspettava minimamente compie 48 anni il 27 febbraio circondata dall'amore di chi le vuole veramente bene cecilia rimane di sasso prima stupefatta basita poi sorridente con tanta gioia nel cuore e una serata di quelle che difficilmente dimenticherà la celebra anche sul suo profilo dove condivide foto e video alcuni repostati dagli invitati su instagram la capriotti ringrazia tutti quelli che a milano hanno riempito il ristorante in centro odio festeggiare i compleanni e odio le sorprese ma oggi cari amici avete reso questa giornata meravigliosa mi ritengo davvero fortunata grazie a tutti scrive tagga anche chi ha partecipato alla festa tra gli invitati cristiana corradi cristina de pin raffaella zardo simona salvemini iuliana moreira costanza caracciolo e ancora pilar fogliati alessandra grillo domenico zambelli alberto de pisis soffico de goni e tanti altri cecilia con indosso uno completo pantaloni nero spegne le candeline e gioisce sulla torta rosa con il logo chanel che in realtà sottolinea le iniziali della festeggiata c'è scritto 33 di nuovo alla cena si mangia si brinda e si canta in allegria grazie a tutti 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 grazie a tutti